molto apprezzati e quindi diventa un momento di comunicazione e di contatto anche tra mondo venatorio e società comune. È uno strumento importante di comunicazione perché la caccia ha bisogno di far conoscere la sua vera faccia alla società e quindi lavoriamo in questo senso proprio per divulgare i tanti ruoli positivi che svolge il mondo venatorio per la società. Cosa che è stata ripresa poi quest'anno con questa grande iniziativa dell'anno di Brescia della realizzazione di questo documentario sul ruolo della caccia nella società che è un'importantissima verità da diffondere per il bene nostro, il futuro della nostra passione ma soprattutto per il bene della società. Questa iniziativa fortemente voluta dall'anno migratoristi è giunta appunto alla 19esima edizione con la collaborazione anche di altre realtà come l'ambito territoriale di caccia di Brescia il club della beccaccia e l'AMOF che tutti uniti perseguono questo importante obiettivo per il futuro della caccia nel nostro paese. Volevo anche aggiungere che prossimamente il 5 aprile verrà presentato un docufilm che abbiamo realizzato noi semplici cacciatori dove si cerca di far vedere alle persone che non ci conoscono cosa facciamo durante il resto dei giorni che non andiamo a caccia e per cui si cerca di far vedere sotto un'altra prospettiva che può essere molto importante e rivalutare il ruolo del cacciatore che ha nel mondo. Aiutiamo, farmo vedere che abbiamo aiutato sicuramente gli agricoltori sicuramente i viticoltori con il discorso ad esempio dell'abbattimento delle nutrie il discorso di abbattimento dei cinghiali con la nostra caccia di selezione e pensiamo che questo possa essere molto importante ma non è finita qua nel filmato si potrà vedere il discorso che si possono tenere i boschi e i nostri sentieri i boschi in modo particolare i sentieri dal fatto che tutti i capannisti che ci sono sulle nostre colline contribuiscono notevolmente alla pulizia dei sentieri per poterci arrivare e questo poi ne usufruiscono praticamente anche il resto della popolazione penso che sia molto importante questo filmato e penso che sarebbe importantissimo che dovrebbe essere divulgato al massimo per far conoscere alle persone che non sono cacciatori cosa facciamo noi cacciatori.